In occasione della giornata della memoria organizzata da Libera lunedì prossimo sarà messa a dura prova la mobilità cittadina. Bisognerà seguire il vatemecum del comune per evitare spiacevoli inconvenienti già da domani. Dalle 18.30 alle 19.30 sarà vietata la sosta sul lato monte di via Garibaldi tra le vie Tommaso Cannizzaro e 111 per consentire la sosta degli autobusi in occasione della veglia nella chiesa di Santa Caterina Valverde. A partire da mezzanotte tutte le auto che saranno parcheggiate nelle zone interdette al traffico saranno rimosse forzatamente per fare spazio al corteo che partirà da piazza Filippo Iuvare percorrendo le vie Garibaldi, Cavurro, Tommaso Cannizzaro, via San Martino. 1 settembre arriverà a piazza Duomo. Il comune ha predisposto la totale chiusura di tutte queste arterie e dello svincolo di boccetta che sarà interdetto dalle 7 alle 13.00 per giungere a Messina si dovrà perciò utilizzare lo svincolo di Messina Centro. Palazzo Zancas consiglia l'utilizzo del mezzo privato dalle 7 alle 15. Dirigenti, docenti e studenti dei vari istituti cittadini potranno decidere se partecipare o meno al corteo. Gli uffici comunali invece rimarranno chiusi.